Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Grande attesa per le frecce tricolori, tra le novità, la chiusura del lato est del lungomare, anche del lato ovest durante l'esibizione, un'ipotesi che dovrebbe essere ripetuta a luglio con altri eventi. Abbiamo ascoltato un po' l'opinione di chi il lungomare lo frequenta. Ma io quando si tratta di dare più spazio ai pedoni, alle bici, agli eventi sono d'accordo. Le macchine devono trovare il loro spazio, dare la precedenza ai pedoni, alla pedonabilità. Secondo me è positivo, non è negativo. Comunque tutto ciò che è per valorizzare il turismo a San Beto, ben venga. Si parla a luglio di un grande evento, ancora top secret, e il lato ovest sarà chiuso per una settimana. Guardi, io sono dell'opinione che più cose si fanno e più turisti arrivano. L'importante è che sia una cosa professionale. L'importante è che ci sia della professionalità, una mente aperta. Beh no, chiuderlo per sempre no. Magari per un evento o due ci può anche stare. Ovviamente l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, quando si chiude il lungomare si blocca una città. Se chiudiamo il lungomare mettiamo i semafori liberi su qualche ingrocio che può creare disagio a chi magari va al lavoro, chi deve raggiungere in estate soprattutto i chalet. Non lo so, è stata una cosa buona, perché sarebbe un casino tutta l'estate. Lei però passeggia invece che... Si passeggio, però penso che basti, no? Questo lungomare che abbiamo, quanti chilometri sono. Ci vorrebbe un po' di organizzazione all'interno per la viabilità. Sì, perché per la viabilità poi d'estate sarebbe un disastro, non lo so io se è il caso insomma. Sì, perché per la viabilità poi non lo so.